Ragazzuole ragazzuole benvenuti in questo nuovissimo video Oggi vi porto una vizzera reale su Fortnite fatta per alto in un torneo in squadre loa the victory cup Ragazzi veramente veramente devastante Ho giocato con una nuovissima squad insieme ai ragazzi con cui abbiamo fatto letteralmente il panico Perché abbiamo fatto quasi 60 kill Per la precisione ben 57 Abbiamo letteralmente devastato l'intera lobby costantemente e sempre sempre di continuo Quindi ragazzuoli oggi vedete una partita veramente super frenetica super caotica ma soprattutto molto molto bella Quindi mi raccomando prima di cominciare con il video un bel pollicino in su per supportare questo video Iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto e vi ricordo inoltre che mi trovate live streaming su Twitch tutti i giorni dalle ore 17 Inoltre ragazzi molto importante se volete supportarmi nello shop di Fortnite potete farlo inserendo il codice creatore Croatomist Mi raccomando se sciappate qualsiasi cosa taggatemi su Instagram con una story che vi andrò a fare il repost E in più vi manderò anche un ringraziamento in direct su Instagram Ora però ragazzi non perdiamoci più chiacchiere e passiamo al video Io vi auguro una buona visione Comunque neanche i problemi sono andati addosso a noi Alla macchinetta Crash pad Morton Ragazzi c'è una cosa Minimino Se avete bisogno e faccio crash pad raga Sì è riuscito a venire da noi ragazzi Ce li gridiamo Ok Arrivo sta arrivando tra 10 secondi massimo E non ho neanche il pompa Spacca qua da me Sopra 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 di noi Quasi da voi Un AKP Morto uno Morto uno Morto uno Sono con voi sono con me se no vai Da me l'altro Da me l'altro Full box full box full box da me Vai vai Sono con te Greggy È full boxata non so jump up Scarcato Scarcato Greggy Ho della sopra Morto Nice Qua qua ragazzi possiamo buscire questi qua a bordo eh Palazzo con la laterale Metto una crash pad Vado dietro sono sotto Anche io anche sono sotto Sono in full locust Dobbiamolini dobbiamolini è uno Guardano accadami Quasi caraccato Quasi caraccato Quasi caraccato Quasi caraccato Dov'è il nonno Minchia Venite sopra il main 26 white al secondo 26 white al secondo Tenta no mi testa Tenta mi testa Greco l'ultimo Oh Raga da me si fight Metto crash pad se volete Metto una crash pad Metto io Ok vai Ho 0 colpi 0 0 colpi Max 200 Nice C'è uno qua dentro Uno qua dentro Con più di uno Più di uno 3 sono 3 Caria 100 Stanno dando un attimo Questo qua con le armi Era full Quanto mi accadono C'è uno 100 100 100 Una colpista Una colpista Una colpista In volo 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 100 Quanto Nice Dai da lag Ok da lag Dobbiamo andare qua Andiamo lì Andiamo lì Metto la crash Metto la crash Metto la crash Vai 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 Venite Metto a snipe Andate andate Morto Ne rimetto un'altra qua Vai vai Sono con te Da me Traccato morto 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 uno Morto uno Nice Nice Va sotto One shot One shot One shot Quello Morto Anche l'altro arrivare ad arrivare ad arrivare ad una diritta morta 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 venite noi arrivando siamo arrivati o solo un impulso dovrebbe se si avremmo la mano al volo non ha problema a me servirebbe big a impulsato via a sinistra di qua di qua di qua di quale 25 e 70 in volo 71 scarico 7 8 ma la volta con il volo qua dietro qua dietro qua dietro andiamo da loro nicoz qua qua morto 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 qua dentro la casa sono tre non c'hanno nulla in volo 40 white vorrei fare una play strana però non lo so ho fatto 50 white a quello lì vediate quelli là fin grosso ragazzi guarda me qua da me è un rampino 4 lì in volo un altro 29 è 60 white 200 morto questo qua è 60 white morto 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 in volo in volo morto 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 un attimo io ho fatto 40 white 30 blue arriva red lo bus lo bus morto 200 un sacco di gente con le armi andiamo da loro non ho fatto uno qua dobbiamo kill a quello quasi quasi crack di mio 110 crack un volo tra salito 50 hai impulsato questo un volo morto in volo ma è scorso uno face uno interesse genico lì qua impulso per mi sa che sono incassati di sotto red si sono lì dentro nella grotta vabbè arrivario arrivo uno ne alping una le tigni nove nella grotta un'altra morto un'altra morto 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 un altro volo si bravo ho killato quello pieno di roba c'è uno qua che non c'è nulla 50 white 90 white morto 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 perfetto quello lì impulso sopra anche io è sotto 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 è un asco di sotto un asco di sotto 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 e 50 90 blue qua dentro l'acqua ho visto solo prendiamo prime soli poi la squadra l'ultimo va dì no ma 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 si e poi ci è una trio mi sa allora che hai impulso io 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 sono tutti i vostri li sono tutti i vostri dobbiamo impulsarli la sotto va beh ci sono medici medici impulso ci siete ci siete ci siete facciamo le prime con calma con calma facciamoci le splash impulsiva sotto un po' hanno impresa per una poriziona una poriziana 26 si è craccato 601 50 white 100 morto vedo gli altri vedo sono due sono due si manca mancano due anche a 2 50 let's go 57 bene ragazzi al termine di questo fantastico video io spero chiaramente come sempre mi sia piaciuto come avete visto abbiamo fatto letteralmente ragazzi il devast 57 kg in torneo abbiamo distrutto tutto e tutti è stata una partita veramente molto bella super frenetica ma soprattutto super movimentata quindi ragazzoli mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciare tanti like se non l'avete ancora fatto a questo video e in più vi ricordo di iscrivervi al canale perché davvero molto molto importante e se volete vedere altri momenti proprio come questi non dovete fare altro che seguirmi live su twitch tutti i giorni dalle ore 17 il link del mio canale lo trovate sempre qui sotto in descrizione ora però ragazzi non ci vediamo salutare ma non vi preoccupate perché chiaramente ci ribecchiamo in un prossimo video dalla vostra creativista è tutto bella a tutti ragazzi bretcio bella a tutti 15